E mentre contempliamo Gesù, Dio fatto uomo, piccolo, povero o inerme, non possiamo non pensare al dramma che stanno vivendo gli abitanti della Terra Santa. Manifestando a questi nostri fratelli e sorelle, specialmente ai bambini, ai loro genitori, alla nostra vicinanza e il nostro sostegno spirituale, sono questi che pagano il vero conto della guerra. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 Grazie a tutti